era previsto il successo di favola ovvio sì ovvio certo ce l'avete studiato no 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 l'abbiamo studiato perché fosse appunto un azzardo quello no dopo aver interpretato al cinema ruoli molto maschili come mussolini rinozene eccetera mi son chiesto ora cosa posso fare qual è la sfida ancora più esagerata interpretare appunto una donna anni 50 in una pièce anni 50 e lì mi si è aperto un mondo proprio parlando del linguaggio no io sono abituato a scrivere insomma abbastanza brutalmente quello che penso le parole insomma tutte fanno la cacca per me capito invece scrivere appunto una pièce anni 50 in cui non ci sono parolacce io ho scoperto un mondo viva il tabù com'è mettersi una parrucca rossa una gonna palloncino e le unghie fai vedere le unghie lo so e lo so le unghie com'è tenersi queste unghie rosse? è orribile perché al computer scrivo con i polpastrelli un bordello no guarda la parrucca io in realtà avrei voluto mettere una parrucca bionda perché amante di greschelle capito quelle bellezze algide mi han detto che il biondo addosso a me sbatte e quindi ho dovuto metterla rossa sono problemi è casi psicologici però perché è lo stesso rosso che c'ha la mamma quindi quando lei è venuta a vedere lo spettacolo ma devi andare a vedere lo spettacolo